Il secondo intervento è quello di Sergio Canobbio, con il progetto Life Gestire. Buongiorno a tutti, io vi presento il ruolo della riqualificazione fluviale per la conservazione della biodiversità nell'ambito del progetto Life Integrato Gestire 2020, che è un progetto Life molto ambizioso che mira a proteggere nel medio e lungo termine l'intera rete ecologica, rete Natura 2000 della Lombardia. Un piccolo accenno a cos'è la rete Natura 2000, visto che ci sono anche degli studenti in sala, magari non sono avvezzi a queste terminologie, fondamentalmente è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità, quindi per adempiere le direttive Habitat e Uccelli, cosiddette, che sono le direttive che puntano a proteggere Habitat e specie prioritarie, considerate di interesse prioritario, quindi minacciate o comunque rare, a rischio, endemiche in varie regioni dell'Europa. In Lombardia ci sono 245 siti Natura 2000, quindi un numero decisamente abbondante, con una serie notevole di enti gestori che se ne occupano, quindi anche con problematiche di governance e di coordinamento, occupano il 15% del territorio, che è un pochino meno della media europea, ma è un ottimo risultato se si considera quanto è antropizzato il territorio della Lombardia. Quindi un territorio del genere, quindi considerazioni che valgono per la Lombardia, ma per certi versi possono valere anche per l'Emilia Romagna. Hanno un territorio del genere che crea notevoli problematiche, quindi frammentazione degli Habitat, isolamento delle popolazioni che si vogliono proteggere, conseguenti pressioni su queste popolazioni che a un certo punto si trovano segregate, come ad esempio il depropriamento del patrimonio genetico, invasioni di specie esotiche e anche una maggior sensibilità, abbiamo visto ieri la problematica in maniera molto interessante, sensibilità al cambiamento climatico. Questo porta all'aumento del rischio di estinzioni locali e da ultimo anche all'aumento del rischio di estinzione complessiva. Quindi il progetto integrato Gestire 2020 fa parte di una nuova tipologia di progetti che sono gli IP Integrated Projects, che sono progetti rispetto ai LAF normali con una durata più lunga e un'attuazione molto ampia. Quindi sono fondamentalmente progetti che mirano all'attuazione della normativa ambientale su ampia scala. In particolare il Gestire 2020, come ho già detto, si occupa dell'applicazione della normativa relativa alla rete Natura 2000 in Lombardia e mira ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi di conservazione, che hanno già stato identificati da un live precedente e che sono orientati in un documento che si chiama Quadro delle azioni prioritarie. Il budget è notevole, i fondi LIFE e altri partner, tra cui Fondazione Cariplo fa la parte del Leone con la sua solita sensibilità ambientale di 17 milioni di euro, proprio perché il progetto è lungo e complesso, ma soprattutto questa tipologia di progetti in generale ha come azione principale la movimentazione dei cosiddetti fondi complementari. Quindi i progetti integrati mirano non soltanto a utilizzare i fondi LIFE, ma a far sì che nel territorio vengano usati fondi che normalmente non sono specifici per la biodiversità, ma che se usati in modo adeguato, mirato e indirizzato possono contribuire al raggiungimento degli obiettivi. Per fare questo il gestire 2020 si è dotato di una nuova figura, che sono i tecnici facilitatori, che devono individuare i fondi fondamentalmente, quindi non ci sono solo quelli che ho fatto vedere nella slide precedente, ma ce ne sono tipologie potenzialmente infinite, basta cercarli e trovarli, e soprattutto utilizzarli al meglio in coerenza con gli obiettivi del progetto. La struttura dei tecnici facilitatori è composta da quattro tecnici chiamati trasversali, con competenze tecnico-scientifiche specifiche, tra cui un idrobiologo che si occupa della parte di acque, che sono io, e dodici tecnici territoriali che invece operano su territori specifici. In particolare sette operano in campo agronomico e forestale e cinque sono riqualificatori fluviali. Quindi vedete che comunque il progetto assegna già alla riqualificazione fluviale un ruolo estremamente importante con delle figure specifiche. Questo perché se si guarda la carta della, diciamo, rete ecologica regionale della Lombardia, potete osservare subito che soprattutto nella zona di pianura la connettività ecologica fondamentalmente dove la pressione antropica è massima è garantita dai corridoi ecologici primari che sono i grossi fiumi planiziali, dove anche sono ubicati tendenzialmente gli unici siti, o comunque i più importanti siti rete natura 2000 della pianura, mentre la connettività est-ovest fondamentalmente avviene solo lungo i reticoli riqui. Perciò abbiamo individuato cinque territori la cui area di operatività fondamentalmente coincide con i comprensori di bonifica e i tecnici che operano in questi territori devono interfacciarsi sia con i siti natura 2000 fluviali, con i consorzi di bonifica e con gli agricoltori frontisti, roge, canali e fontanili che costituiscono gli elementi focali della rete ecologica in pianura. Al momento, dopo poco più di un anno di operatività, i tecnici facilitatori hanno movimentato circa 20 milioni di euro di fondi, la parte del Leone la fanno il Bando Cariplo Capitale Naturale 2018, il Fondo Arei Verdi che è un fondo di compensazione regionale, le misure PSR legate alle aree umide e i fontanili e in progetti integrati d'area, sempre del PSR. Va anche detto che ovviamente non tutti questi fondi movimentati verranno poi rendi contati all'Unione Europea come fondi complementari perché naturalmente può esserci e c'è la situazione in cui alcuni di questi progetti presentati dai tecnici facilitatori che hanno cooperato con gli enti sul territorio non sono finanziati. Comunque al momento abbiamo un buon riscontro di finanziamento, la maggior parte di questi fondi sono ancora in istruttoria perché ovviamente oltre ai tempi tecnici del progetto LIFE vanno anche considerati i tempi tecnici di istruttoria di ciascuna delle fonti complementari. Per questo oggi non vi mostro foto di come invece è avvenuto nella presentazione di progetti avvenuti e di riqualificazioni avvenute perché fondamentalmente siamo all'inizio. Posso presentarvi invece un esempio a titolo esemplificativo di progetto presentato. Questa è la cooperazione tra un tecnico territoriale della zona dell'Oglio fondamentalmente, il beneficiaio tra l'altro è proprio il consorzio di bonifica Oglio Mella, quindi vedete che c'è anche una cooperazione non soltanto con gli agricoltori o con enti parco o con enti gestori di Natura 2000 ma anche con i consorzi di bonifica per fondamentalmente riqualificare una serie di teste di fontanile che tra l'altro sono un asse tra un corridoio primario della rete ecologica che in pianura sono veramente rari e vanno tenuti da conto, con un elemento primario sorgente della rea. Poi esaurita diciamo la movimentazione dei fondi complementari, il LIFE gestire 2020 ha anche azioni specifiche di conservazione della natura nelle zone fluviali, per gli ecosistemi fluviali e di riqualificazione. In particolare un'azione per la tutela del gambero di fiume autoctono che non soltanto si occupa di ripopolamenti, ERSAF in particolare gestisce due incubatori in cui vengono allevati i gamberi di fiume autoctoni per le semine ma prevede anche interventi di riqualificazione e questa volta con fondi di proprio LIFE. Poi c'è un'azione per la tutela dell'ornitofauna, quindi uccelli di greto in particolare, abbiamo una collaborazione importante in corso con il parco del Ticino a riguardo e il partner di progetto che si occupa ovviamente è l'IPU e poi abbiamo altre azioni tra cui interventi prioritari per gli anfibi, conservazioni di habitat vegetali tra cui ovviamente ci sono anche gli habitat igrofili e le idrofite e la conservazione della chirotterofauna quindi dei pipistrelli che apparentemente centra poco con la riqualificazione fluviale ma in realtà tutti sappiamo come i tratti fluviali sono dei corridoi, sono le zone di foraggiamento importanti per moltissime specie di pipistrelle. Da ultimo abbiamo anche un'azione per la determinazione del deflusso ecologico idoneo alla conservazione di specialità di interesse comunitario che fondamentalmente si traduce nel fatto che nei prossimi due anni dovremo definire, in realtà nel prossimo anno definirlo, il fattore correttivo naturalistico N per chi di voi ha presente la formula del DMV dell'autorità di vaccino del Po fondamentalmente dovremo definire questo fattore correttivo naturalistico N improntato alla conservazione da applicare per gruppi di corpi idrici omogenei, per regime idraulico e specie target chiaramente il fattore sarà diverso per i fiumi con una vocazione alla tratta marmorata dai fiumi con una vocazione per proteggere l'Alaska, faccio per dire e poi ci saranno delle validazioni sul campo su corpi idrici emblematici per effettivamente valutare la bontà di questo fattore correttivo individuato. Quindi per ricapitolare perché, visto che questa sessione si intitola perché la riqualificazione fluviale, perché per la ritenatura 2000, come abbiamo visto perché per le caratteristiche del territorio su cui operiamo, specialmente in pianura i fiumi sono un elemento imprescindibile della connettività ecologica e perché gli abiti attacquatici hanno un intrinseco ruolo al di là della connettività per la conservazione di numerosissime specie di interesse prioritario. Quindi integrazione delle conoscenze nell'ambito della riqualificazione fluviale nelle azioni LIFE è imprescindibile e allo stesso modo deve esserci uno specifico lavoro di movimentazione di fondi proprio volto alla riqualificazione fluviale ed è per quello che abbiamo individuato queste figure particolari diciamo. Ti ringrazio Sergio anche per la rapidità, quindi abbiamo spazio stavolta almeno per un paio di domande e gli spunti che ci ha dato sono tanti. Funziona? Sì. Alessandro Enrico Cirf, volevo sapere questa figura del tecnico facilitatore, cioè è una figura che vi siete inventati all'interno del progetto, una figura inquadrata dall'Unione Europea? No, dunque è una figura che ci siamo inventati tra virgolette all'interno del progetto e che l'Unione Europea ha fatto proprio, nel senso che per questioni di tempo, anche se poi un po' ce l'avevo, ho tagliato un po' corto sull'inquadramento del progetto, ma il LIFE Gesture è stato uno dei primissimi progetti integrati, cioè ha proprio partecipato alla prima call per i progetti integrati ed è stato il primo in Italia. E quindi in realtà la figura ce la siamo un po' inventata, ma allo stesso tempo la Commissione Europea guarda con estremo interesse a questa figura e ha spinto perché venisse applicata anche in altri progetti integrati successivi e durante le visite di monitoraggio i monitor hanno un focus molto specifico su queste figure, ma proprio perché sono molto interessati a vedere come funzionano. La figura ha cambiato molto nel corso del tempo anche il suo inquadramento, ad esempio in partenza doveva essere del personale inquadrato in Ersa, fa alla fine i tecnici territoriali per tutta una serie di questioni anche di opportunità e di normativa sono diventate delle figure professionali, quindi i territoriali sono proprio liberi professionisti o RTP, raggruppamenti temporanei di professionisti che lavorano sul territorio. C'è spazio ancora Bruno per qualche considerazione? Lucia Ruffato, Free Rivers Mi chiedevo, state quindi lavorando su questo tavolo che dovrà stabilire il deflusso ecologico e la formula, no? Mi chiedevo, siccome io ho avuto l'avventura di partecipare al tavolo del bacino delle Alpi Orientali, mi domandavo in che modo siete dentro, cioè per il calcolo della formula, perché noi abbiamo un po' di problemi nel senso che non si capisce bene questi fattori come da chi si vengono suggeriti, come vengono validati, trovo che sia un grosso problema perché da noi per esempio viene tutto demandato la sperimentazione agli utilizzatori, quindi diventa un po'... Ecco, mi chiedevo se voi potete essere una figura in qualche modo che risolve questo problema. Sì, dunque, noi non calcoleremo il coefficiente N, ma ovviamente di concerto con il competente ufficio di Regione Lombardia che di fatto sono loro che siedono ufficialmente al tavolo di concertazione. Sì, presso l'autorità di bacino, ma diciamo ERSAF è soltanto a supporto di Regione Lombardia. Quello che volevamo fare era proprio questo, nel senso che c'è una grossa confusione, i piani di gestione ad esempio della rete Natura 2000 in Lombardia, gli unici piani di gestione che parlano di DMV si limitano a dire mettiamo il coefficiente N a 2, cautelativamente, però in realtà questo va contro anche le ultime indicazioni che invece chiedono che ci siano delle solide basi eco-ideologiche a riguardo. Servirebbe un'altra presentazione probabilmente per dirmi la questione, ma il succo è che noi in Lombardia tra l'altro adesso sono state, dal nuovo PTOA sono state vietate le sperimentazioni, cioè in contotendenza con tutto il resto della... proprio perché in realtà arriviamo da un PTOA che le era previste in anticipo di diversi anni rispetto a tutti gli altri e diciamo anche in Regione Lombardia le sperimentazioni che sono state fatte nel decennio precedente erano tutte fondamentalmente finanziate dai derivatori, quindi ci sono state anche tutta una serie di problematiche proprio di riuscire a inquadrare dei tavoli tecnici adeguati per valutarle. Fondamentalmente adesso c'è stato uno stop alle sperimentazioni, infatti se nota la finezza nella slide in cui ho parlato del DMV non parliamo di sperimentazioni ma parliamo di validazioni, quindi ERSA, quindi un ente pubblico senza interessi diciamo contrastanti, si farà carico di fare delle valutazioni, quindi di applicare delle metodologie sito specifiche per validare i modelli ecoidraulici, questa è la pensata che abbiamo adottato. Ultima domanda rapidissima. Scusa, visto che hai toccato l'argomento che se ne parlava ieri, non so se ci sia qualcuno in sala anche di Regione Lombardia o di autorità di distruttura del BOE che possa chiarire, il PTOA ha vietato le sperimentazioni ma allo stesso tempo c'è un decreto direttoriale sull'e-flow che prevede le sperimentazioni, quindi come si incastrano le due cose, magari un minuto qualcuno ce lo riesce a spiegare. Non c'è nessuno di Regione Lombardia. Sì, ma non di quel compagno. Ci sono ma si nascondono, va bene. L'ho lanciata la domanda, poi magari la pausa. Approfondiremo nel Word aperitivo.